WOOOOOOH Intro 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 Beh ragazzi, come benvenuti con questo nuovo video di Minecraft Ci vediamo oggi finalmente in un nuovo Gryffing Challenge In compagnia di Kenny e AnelX98 Vedenti, vedenti Ma sei... perché Anel, aiuto? Ehhh, poi la skin di Steve mi fa un sacco Aia, aia, aiuto Mi raccomando ragazzi, se il video vi faccio il commento scrivere che vi faccio il video Mi hai comprato le mie bellissime magliette Ma che schifo le tre magliette Ma come ti permetti? Mochimo il 118, vabbè ci vengono direttamente in partita, bella Ma ce la fai ad avere una skin? Ma non essere povera Non essere povera Mi ha un attimino Ho fatto male all'orgoglio, sinceramente Cioè, mi ha proprio urtato qua dentro Comunque manca un pochi secondi, mi spacco Come? No, cosa? Non è questo l'obiettivo Infatti, uno Via, sacchi di merda Si parte Anna hai capito che non devi uccidere Kenny In pratica tu devi aprire il lucky block Con tutto quello che puoi distruggere un'isola Tu distruggi un'isola Grande creeper che mi aiuta Vedi che top TNT Che top Da male in mano la TNT Guarda che due lesi del cazzo Ma come si fa? Io quindi devo guardare il nucleo? No Aiuto mamma Ma se io uccidessi Anna No, vabbè Si dai, vieni da me Dai, vediamo cosa hai trovato Dai, sentiamo Non vengo da te No, ok creeper che top Che top la droga Ho trovato l'ossidiana Beh Devi andare a bardare l'isola di Anna Perché così non Non puoi distruggere più niente Oddio, davvero È una generata Eh Eh Aspetta, guarda lo spawn Madonna 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 Che top Ma perché è proprio il mio? Così mi sta caricando un attimino Allora qua Qua Poi ci ho dato la tenetica Aspetta, ma io devo distruggere la mia isola La tua isola lesa E come si fa a capire chi vince? Eh, minchia Si vede se un distrugge più dell'altro Cioè, se ti spacca un blocco Tu ne spacchi 14.000 Vinci te Levati dalle palle No, vinco io Che cazzo dicendo? Che bella Sei venuta a vivere con me Ma cosa sta... Perché? Ma perché tutti dicono che vanno a vivere con i cani I cani a io e da lei? Guarda devi solo morire Anna Ohohohoh Devi solo morire Non mi consiglierà nello spawn Noohohoh Che cosa c'è il piccone? Che c'è il piccone? C'è l'hai la Renetei Letina No, è andata, è dolce Oh mio Dio, che mi è ammardata Ma che cosa stai dicendo Anna? Cosa stai cos? Cos, 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 cos … scava, scava deve essere una piccola cilena anche te No raga non sono capace Ma come no Zia mi stanno sponchillando Oh si esplodi esplodi Ma porco due dove cazzo è Dove è questo scheletro di merda Raga c'è questo scheletro qua che continua a sponchillarmi Non riesco a muovermi Ma poi come facciamo a decidere chi ha fatto il risultato Si vede chi distrugge di più Il massimo fa dicono nei commenti Chi ha vinto a Denmark No ma perché vengo io da te zia Ci guardiamo a tutte vicende Ok ok Sto uscendo il mio minion Mi sento un sacco in cura No no non farlo poverino Cioè come fai poi Oh TNT top Mamma mia Tina Sto facendo spodere tutto Grande Anna Capito il senso del gioco dopo due minuti di partita Quella che si lancia Zia Zia Cosa Anna Cioè ha distrutto tutto Figa cioè minchia Eh porca due Perché lo stai dicendo con l'accento sardo Cosa? Stava parlando con l'accento di Alice Stava parlando Ah è vero No sai che mi sembrava papone 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 Aio che ti esplodi Perché non esplode il creeper No no sai cosa mi ha spawnato Eh Mi hai bardato tutto Esplodi sacco di merda Sopra Non dentro Sopra Come sopra Ma no ma raga mi hanno bardato il nucleo Mi hanno bardato Ma porco due Mi serve un ender No 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 pigmen non ti voglio Pigmen non ti voglio Ok grazie Ma raga quanto sto vincendo Poco Pochissimo Zero Sì Ok Ma non è vero zia Guarda c'ho un buco C'ho una voragine al posto del titolo No Me l'ha dato? No raga mi ha esploso il No dai non ci credo Mi ha esploso il destrutto Mi ha esploso il destrutto No dai Che palle Era lì Ho trovato l'ossidiato Come? No dai Non mi sto capendo più un cazzo Papone Papone Non mi sto capendo più un cazzo Perché noi ci facciamo di codeina Però prima di ristaggirla Mi è venuto al tubico Non è che mi state prendendo in giro E in realtà bisogna uccidere l'altro Ma Anna ma Cioè è la mia serie Non so come funziona Cioè Lei non guarda i tuoi video Ma lei Cioè a me non lo so Io faccio video con gente Che non guarda i miei video Come Martina No ma magari questa è in realtà Una vera Lupo Lucky Block Ma sai che è? È una genialità Una lupo Lucky Block Cioè tu inviti il youtuber No e dici No guarda facciamo la mia serie bella Quella lì Eh E poi in realtà no Io lo metti nel culo E poi in realtà E poi in realtà Spettacolo Mamma mia Una griffi finita male Guarda Marco cosa ho fatto Cosa hai fatto zia? Guarda adesso devi solo morire Ma chi è che è? Ma che cazzo? Ti ho guardato con la siriana Guardami Tina Sono sponato sopra Che falle Ah 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 Coglione Un troll finito male zia Aspetta Marco Riesci a vedere la mia isola? No Sono non so cosa Il verde No non riesco Sei là in fondo All'altra parte posta Bruttissima Comunque secondo me ho vinto io Io non lo dico Sì ma zia Mancano ancora un botto di minuti Vabbè Quindi cioè Non gasarti per niente Perché se non ti spacco zia Porco due Cioè No Bob Non rupermi cazzo Bob Porco due Porco due Bob Comunque Tina Mi ha fatto un favorone A bardarmi sai Perché prima c'era sotto La runnatella e l'anima volta dove ho ender per l'arte Mi ha salvato il culo Grazie Ma poi ender per l'arte Grazie Grazie Comunque Non sta più trovando un cazzo Tina Per colpa tua Oh la TNT esplodi zia Perché tutti hanno praticamente vinto in questa serie Cioè Mi spiegate No perché Io ho dato fuoco appena adesso A 30 TNT Ok E Che stanno scappando E E ciao Guarda che c'è la TNT che si può lanciare La TNT che puoi dar fuoco Tina Quindi non è che poi Cioè Hai capito zia No no Mi ha pensato una cosa molto intelligente Che sto facendo Ok tipo No raga E' esploso tutto Eh no ma va No Allora aspetta Muovemoci Muovemo di qua Porti che sei Anna Porco due Come Anna nessuno Qualcosa è in cui sono forte Oddio Oddio forte Esplodere Oh oh c'è il caro C'è lui C'è lui C'è lui Oh bisogna Fate quel meme lì Se fare bene qualcosa Non farlo gratis E poi c'è Anna Che fa Esplodo 5 euro Beh insomma Anna voleva solo esplodere No Bob Io sto trovando solo Bob Perché sta parita di merda Per mi stagliate Il motivo Io trovo solo ossidiana Cioè quando devo guardare In nucleo Mai Non c'è mai ossidiana Ancora C'è che ho trovato adesso Guardate che veramente il mio è Chi è che c'è tutto sto culo Regà È bellissimo Il tuo culo No Non so La mia isola L'hai detta come un'enfasi incredibile Te lo giuro È bellissimo Quanto ossidiana C'hai tina Quattro stacchi Io sto trovando solo Bob Oddio Ancora Ancora Bum Basta 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 Cosa hai trovato Anna Ho vinto Ti dico Ho trovato tutto Tutto E ma zia Cosa c'è Bob Bob del cazzo Una Una Non troppa Una Un'altra Eccoci Anche io voglio le TNT Oh eccola Oh Il diamante non lo voglio Che dubai C'ho Che dubai Figare Adesso me le crafto le TNT Mamma mia Tina Perché sei capace a craftare le TNT Da quando? Non ho idea di come sei il ca Cioè Non sono capace Io penso a te Tu sono capace Io poi davvero Dai Anna sentiamo quanto No Vabbè Cosa Il Destruccio Ma perché c'è tutto sto culo te Non lo spieghi Io voglio la bomba Ma cosa si vince No esplodo Cosa Anna Cosa si vince Un calcio in culo Hai trovato Una trossidiana Tina Basta Ma cosa stai La stai Tenendo da parte Tina Per le prossime partite La stai collezionando Che top Collezionare l'ossidiana Sai che lo faccio anch'io ogni tanto No No Sono morto Scusa Comunque se fosse stato un cubo Sarebbe stato più semplice Sai Perché zia Non si capisce un cazzo qui Cosa stiamo succedendo Tu devi distruggere il più possibile Zia Cioè non è che ti puoi sempre lamentare Però Non si capisce Non si capisce Mi stai urtando Nel profondo del cuore Mi stai urtando Voi come state messi Con il dito Male È molto più bella È molto più distrutta No No Io sono messo malissimo Guardate La mia non c'è La mia non c'è Io non vengo a trovarti Anna perché tu mi uccidi e basta Cioè Ecco No Guardate che vengo da te Kenny Da tec Non ho capito Vieni da tec Kenny Vieni da tec Ma che cazzo Cosa Te raccontati Tina Dai non mi rompere palle Che sono incastrata In maragna Si che me l'ha droppata Si che me l'ha droppata Quanto è? Due Ma perché sono così povero Oh una TNT Facciamo così Una là e una là Ok Perché sono felice di trovare TNT Che mi espodono in faccia Non lo so Tina Non far domande Certe volte è meglio non far domande Tina Aia Cosa Aia? Cosa è successo? Ho fatto ossidiana No Tina basta Adesso vengo Ne vengo le vostre isole E vi metto 50 stati di ossidiana Tina no Tina no Te l'ho detto io Te l'ho detto io Come si faceva questa tecnica segreta Quindi non puoi Faccio ad Anna? Eh? Sperava fai ad Anna Fai tutto ad Anna bravo Cosa? No niente Anna Tranquilla È una cazzata Stam prendo dei soldi Quindi tu non hai No 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 Sti dissi cattivissimi Oh Anna Cosa ti fai qui? C'è Anna da te Raga è finita raga È finita 10 minuti Ma come si fa capire Chi ha vinto poi? Adesso vengo da te E vediamo Vediamo Anche io voglio venire Qua deve esplodere l'ultimo clipper Perché mi hai ucciso Ok perfetto Allora Io vado prima da Kenny Andiamo prima da Kenny Anna Guarda che io ho vinto Cosi vinto Cosi vinto Ti dico Tina non puoi più rompere zia Ah non posso Eh no è finito il tempo Guarda che bara Guarda che bara Non avevo capito Beh oddio Ma guarda che ne hai fatto un cazzo Tina Guarda c'è una voragine Che cazzo Ma dov'è la voragine? Ma sei scemo? Ma dov'è sto Ma Tina dov'è la voragine Scusa Ma vieni a veder la mia isola Per favore Ma la faccio vedere io La voragine Ahia Vieni a veder la mia isola Vieni a veder la mia isola Tina Vieni qua per favore Un attimo zio Andammi te Ma figa ma con tutto il posto che c'era Ma sulle ragni a te Dovevo mettermi Eh oh Questa è una voragine zia Ma dai regà Ma dove? Guarda Guardatemi Ma cosa stai di cosa cosa Tu non hai fatto niente guarda Andiamo da Anna La mia è molto più ampia La tua è profonda La mia è ampia Mmmh Questa qua è È una cosa ambigua Anna cosa stai facendo Perché Mi date delle handel Sì scusate Quanto è povera Senza Già Che povera Andiamo da lei Aspetta che mi interperano sul suo ponte Ma anche io voglio valutare Perché io non mi fido di voi Sì scusate Non so che fate Lascia stare No Questo è il karma Anch'io voglio vendere il pernale Sul mio ponte No ce l'ho qua Dove è? Mi sto cadendo sotto i miei piedi No Marco Marco dai Marco Che succede? L'ho ucciso Vabbè ce l'ho fatta Ce l'ho fatta anche io guarda Mamma Tina Vai raga Vediamo un attimo Anna Come è messa Guarda Guarda che roba Guarda Beh oddio Anna ha fatto il suo Mamma mia Guarda Ok Anna ha fatto il suo Non so chi avrebbe vinto Quindi io farei votare direttamente Nei commenti No ho vinto io Stai zitta Perché tu non puoi vincerne i miei video Ecco Vabbè ragazzi Per questo video ti rogando Spero che vi sia piaciuto Saluto Anna e Tina Per aver partecipato Vi ringrazio A parte Anna Perché era una piccola cilena Noi ci vediamo in un prossimo video Da Marco E da Tina E purtroppo Da Anna è tutto E Perché mi stava frecciando Kenny Io Boom Perché io Boom Bella Ciao Ciao Dai Comunque ho messo io E zitta